Enjoy people! Io sono Irene e oggi fa molto 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 caldo Vorrei che la scuola fosse finita per godermi la mia estate Anche se me la godrò dopo gli esami Però non vorrò che finisca e non ci siano questi cavolo di esami Io voglio che finisca per la terza volta che lo dico E vorrei rilassarmi E invece no, ci sono gli esami Però una volta dopo gli esami farò un casino di video Non farò una tutta l'estate Quindi è fantastico Ad ogni modo sono qua per chiedervi di farvi delle domande Perché abbiamo raggiunto i 500 iscritti Io sono troppo felice Cioè 500 e metà di 1000 Ce ne rendiamo conto? Il mio obiettivo è i 1000 E spero che alla fine del 2015 riesca ad ottenerli Tutto questo è grazie a voi Quindi vi ringrazio 500 volte E vi chiedo cosa ha fatto di farmi delle domande di questo tipo Di questo genere sull'estate, sulle foglie, sui fiori Sulla scuola, sull'amicizia, su qualsiasi cosa Io vi risponderò, sarò felicissima di rispondervi E non la, io vi mando un bellissimo bacio E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao a tutti Allora Io sono niente E vorrei che Posse sta Cioè vorrei che Sono riuscita a fare un video all'aperta Meno male All'aperta Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti